La polizia del nuovo Galles del Sud ha confermato l'identità dell'autore dell'attacco che sabato ha ucciso sei persone e ne ha ferite più di dieci in un centro commerciale di Sydney. Il quarantenne aveva problemi di salute mentale hanno dichiarato le autorità. Secondo le indagini l'aggressore viveva nel Queensland e non aveva particolari motivazioni ideologiche o di altro tipo quindi sono state escluse motivazioni terroristiche. L'aggressore è stato ucciso da un agente di polizia e le sue azioni sono state considerate eroiche da molti compreso il governo australiano.